Buongiorno e benvenuti a Rassegna Stampa, siamo arrivati a lunedì mattina, lunedì mattina Le 7, lunedì 10 febbraio 2020, questa è Fano TV, occhio ai giornali che fra poco vi farà vedere Vi mostrerà le notizie più importanti dal Corriere Adriatico e dal resto del Carlino Oggi è Santa Scolastica, la sorella gemella di San Benedetto, il sole sorgerà alle 7 e un quarto E tramonterà alle 17 e 29 minuti, per quanto riguarda il tempo oggi avremo una giornata calda, molto calda Ma ventosa, attenzione infatti ai venti che saranno di tempesta violenta sulla fascia alto collinare e montana Fino a Burrascaforte invece sul resto della Regione Avremo qualche sporadico piovasco invece sul versante montano del nord e sud della Regione E il resto ci sarà nuvolosità diffusa, ma la cosa che preme di più ricordare, c'è anche un'allerta meteorologica Emessa dalla protezione civile delle Marche, è proprio questa Cioè i venti che oggi saranno molto, molto, molto forti Allora, martedì invece, domani, il tempo previsto Avremo un cielo sereno poco nuvoloso, con temperature ancora in aumento, soprattutto quelle della notte Inizialmente i venti saranno sud-occidentale forti, con raffiche anche domani fino a tempesta Con intensità in attenuazione però nel corso della giornata Condizioni di tempo stabile soleggiate fino però a venerdì Quando arriverà una perturbazione che porterà, speriamo, un po' di pioggia Qui non si vede la pioggia Guardate le previsioni delle temperature per la giornata di oggi Intorno alle 14, viaggiamo dai 16 di Ancona fino ai 18 gradi ad Ascoli Piceno Così come Fano Pesaro, 14-15 gradi Insomma, sarà una giornata calda ma soprattutto, come dicevamo, ventosa Ieri c'è stato l'incontro ad Ancona, alla riunione della direzione generale del Partito Democratico Si cerca di trovare una quadra, di trovare una soluzione all'impasse che si è creato Per trovare il candidato giusto alle prossime elezioni regionali C'è anche lo sport, oggi nei giornali del lunedì E la cronaca con un morto, diversi incidenti E il carnevale, chiaramente, per quanto riguarda Fano Cominciamo dalla prima pagina dell'edizione di Pesaro del Corriere Adriatico Orlando stoppa le primarie, il PD torni da alleati e Movimento 5 Stelle Stallo in direzione, Roma insiste sulla coalizione Il candidato deve unire e dunque non dividere Centro pagina, Vis fermata la capolista Il Vicenza avanti con arma, poi pareggia l'Eli uno a uno Il Fano invece continuano le polemiche per l'arbitraggio Per gli arbitri che insomma le stanno facendo di tutti i colori A dire dell'alma L'esultanza dei giocatori della Vispesaro dopo il pareggio siglato appunto da Leli Mentre sul parchè della VL ci sono solo lacrime a mare VLKO con le triple di Brindisi La VL che purtroppo ancora deve una volta rimandare la prima vittoria in casa Ieri a far festa l'Epicasa Brindisi Che ha risolto il match grazie alle triple firmate dal capitano Banks Il risultato 77 a 103 La sfilata ispirata a Greta, la piccola attivista svedese In 12 mila nei viali di Fano Cari allegorici e gruppi mascherati tutti green Il getto non delude 70 quintali di prelibatezze La pagina del resto del carlino di Pesaro Riproviamoci con i grillini Sono parole dette nel corso di questa riunione Regionali Orlando detta la linea del PD Primarie congelate Mentre Primarie che vorrebbe invece Ceriscioli Parco Tosato, quello di Miralfiore Così è più sicuro Il taglio del sottobosco non piace Ovviamente è un taglio in chiave anti-pusher, anti-spacciatori Non piace agli ambientalisti che invece accusano l'assessore L'assessore che però risponde dicendo che è tutto in regola Il debutto del Carnevale, ok la prima sfilata Con i cari ecologisti arrivano in 12.000 Al Festival di Sanremo, Cotini Show con mozione a Sanremo Ma c'è anche la cronaca Mancato stop a Pesaro Un Audi si schianta e poi finisce su un fianco Come si vede dalla fotografia E a Fano invece la polemica è per il recupero della Tari La tassa sui rifiuti, le aziende in rivolta Non siamo degli evasori fiscali Il basket, VL muore anche l'ultima speranza Brindisi sbriciola la squadra di Sacco Adesso una lunga pausa di riflessione Il calcio di Serie C, la vis stop alla capolista Un punto d'oro pari con la Nerossi Vicenza A segno il Vicentino Lelli Reazione di carattere dopo lo svantaggio E questa è la pagina di Fano del Corriere Che apre con le fotografie Che riguardano la prima sfilata del Carnevale di Fano La svolta è tutta green Questo è il titolo Un debutto con 12.000 spettatori La riflessione sull'ambiente rompe Con trasgressività e speranza Curiosità per Barbie Greta Ma è stato il getto, il vero mattatore della sfilata E anche Seri ha contribuito a lanciare i dolci Eppure i quartieri, quartieri di Fano Protagonisti di questo primo Carnevale I piccoli Greta Thunberg crescono E danno lezioni di ecologia ai grandi Folla per il Carnevale dei Bambini Quello che si tiene al mattino ed è ad ingresso gratuito Plauso alle scuole tra funerali del mondo E mare dei rifiuti Il Corriere pubblica questa mattina Alcuni scatti, alcune fotografie Di questo bello appuntamento mattutino Che richiama sempre tanta gente Però c'era anche un veglione Il primo veglione di Carnevale Alla fiesta di Cecchini C'è la casa di carta di auspici Auspici che vedete in questa immagine In tuta e maschere Mentre Luciano Cecchini Ex Presidente dell'Ente Carnevalesca Mentre annuncia, insomma Presenta questo suo veglione Una serata dal sapore spagnolo Quella a cura dell'ex Presidente La Carnevalesca invece è per Teleton Al Carnevale c'era anche il vero Pinocchio Titola invece il resto del Carlino Tra gli ospiti d'onore c'era il piccolo Federico Ielapi L'attore che interpreta il burattino nel film di Garrone L'omaggio poi a Greta Thunberg Ma in tutta questa sfilata In questa prima sfilata Non c'era il carro che fa dire wow Ovvero il carro che sorprende Il carro che ti fa dire mamma mia che bello I temi contemporanei sono sempre molto gettonati Ma a volte ci si perde Questo è l'articolo sul Carlino di questa mattina Andiamo dal Carnevale di Fano Al Festival di Sanremo Cottini fa emozionare Sanremo in Italia Diversità e bellezza e valore aggiunto Share di record per l'esibizione Con Bianca Maria Berardi Per fare ascolti non servono compensi Da 300.000 euro Questo è un momento della loro esibizione Ivan Cottini che spiega che la diversità è bellezza E poi la danza all'Ariston con Bianca Maria Berardi Ancora dai quotidiani Siamo sul Carlino questa volta E anche qui il resoconto di questa giornata serata Sul palco dell'Ariston Dove si è sprigionata questa energia tutta urbinata Standing ovation Tutti in piedi per Ivan Cottini e Bianca Maria Berardi Ma c'era anche Raffael Gualazzi Sempre urbinate con il suo carioca Che ha sfoggiato uno stile anni 80 Andiamo a Fano Torniamo a Fano Anzi non per parlare di Carnevale Qui non c'è niente da ridere Perché si parla di accertamenti Neanche da scherzare Accertamenti tari Buffera sulla Cucchiarini Cucchiarini è l'assessore ai tributi del comune di Fano Continuano ad arrivare a privati Comercianti e titolari di aziende Cartelle pesanti sui rifiuti E l'assessore ai tributi Sara Cucchiarini Parla di mille cartelle inviate Sottolineando come siano pesanti Solo per coloro Che non hanno pagato regolarmente Nei cinque anni precedenti Ma la Lega attacca La Lega attacca l'assessore Dicendo chieda scusa a tutta la città E ritiri questa iniziativa Fano Non sono tutti evasori Come sostiene lei I nostri operatori commerciali Non sono evasori Ma eroi della piccola imprenditoria Le primarie Andiamo di nuovo nella sede del partito regionale Perché ieri è arrivato Orlando da Roma Che ha rimandato tutti a casa Con questo compito Un compitino Quello di trovare di nuovo alleanza O perlomeno provarci Con il Movimento 5 Stelle E poi con le varie liste collegate Una direzione fiume Così scrive il Corriere Il vice segretario nazionale Stoppa all'inizio Il documento di Mangialardi Che avrebbe spianato la via Ceriscioli I pro governatore Dicono la partita è finita Lo stesso Gli avversari Ci salva solo un tavolo nazionale Bisogna insistere Ha detto Andrea Orlando Sulla coalizione E rilanciare il dialogo Con il Movimento 5 Stelle Ci vuole coraggio A darmi del perdente Io ho sempre vinto Dice l'attuale Luca Ceriscioli Mentre Matteo Ricci Sindaco di Pesaro Ho sempre detto Bene di Luca Ora vada avanti Chi ha più energia Ancora su questo argomento E altre fotografie Dalla direzione fiume Come è stato detto E questa è la pagina Con le immagini Orlando è arrivato intorno alle 15 e 30 Poi sotto Casini Comi e Mastro Vincenzo Mentre il resto del Carlino Orlando allarghiamo la coalizione Ricci serve un candidato top Segretario regionale PD Il vice di Zingaretti Detta la linea Dopo sei ore di summit Di incontro Riprovarci con i 5 Stelle Il sindaco indica L'identikit della Mancinelli Non votato il documento Per le primarie Il 15 di marzo Come abbiamo detto Che invece avrebbe voluto Ceriscioli Super lavoro per i giudici Oltre 3.000 Dalle cause penali La relazione Sull'anno giudiziario Evidenza Un aumento significativo Per l'attività Del Tribunale di Pesaro Diminuiscono Le pendenze Nel civile Sempre elevati Invece i procedimenti Per le separazioni E i divorzi Dagli inquirenti E dagli investigatori Più conoscenza del territorio Il rapporto di Catelli E Sottani Affronta le conseguenze Dell'omicidio bruzzese Il tema delle mafie E dei collaboratori Di giustizia Ritorna nella relazione Del Presidente Della Corte di Appello Di Ancona Luigi Catelli E del Procuratore Generale Sergio Sottani Si parla del tragico Episodio del Natale Del 2018 A Pesaro Con l'uccisione Del fratello Di un collaboratore Di giustizia Il cui procedimento Pende tuttora Nella fase Delle indagini Sempre da Pesaro La vicenda Della pentastellata Francesca Franquellucci Che ha accettato La delega All'innovazione Dunque È diventata Assessore Contro la volontà Del suo movimento I Cinque Stelle Per l'appunto E dice Per la mia attività La Franquellucci Non ho avuto aiuti E la concessione Non è stata rilasciata Franquellucci Replica le accuse Dell'ex gruppo consigliare De Cinque Stelle Stoccata Anche a Coltorti Su di me Sono state fatte Accuse pesanti E se ne dovrà Rispondere Nelle sedi Opportune Arriva Salvini Invece a Pesaro In città Tornano anche Le sardine In piazzale Lazzarini Stesso giorno Stessa ora Ma piazze Differenti Il leader leghista È stato annunciato È stato annunciato In città In città A Pesaro Per il pomeriggio Di giovedì 20 febbraio Per la campagna elettorale Delle Marche L'appuntamento È fissato Per le 18 In piazza del popolo Contemporaneamente Le sardine pesaresi Hanno annunciato Un presidio In piazzale Lazzarini Lo stesso luogo Del loro primo sit-in Che aveva radunato Circa un migliaio Di persone Oggi È la giornata Del ricordo Si parla di foibe Almeno si dovrebbe Parlare di foibe Il consigliere Toccacieli Dice Nelle scuole Organizzate cineforum Per ricordarle Chiedi al tuo professore Anzi Chiedi ai tuoi professori Cosa sono le foibe Scrive Toccacieli È lo slogan Con il quale Invitiamo gli studenti Di oggi A conoscere E pretendere La verità Su quanto è accaduto 70 anni prima Ai loro connazionali E per l'occasione Invece Fratelli d'Italia Deporrà Un simbolo Omaggio Al parco Dedicato agli esuli Giuliano Dalmati Parco di Trebbia Antico E poi Nella via Norma Cossetto Invece A Fano Sotto L'arcivescovo Perché oggi È anche Anche se poi La ricorrenza È nel giorno In cui la Chiesa Accorda E ricorda La Beata Vergine Maria di Lourdes L'arcivescovo Farà visita Ai malati Del San Salvatore In quella Che è oggi La giornata La ventisettesima Ventottesima Scusate Giornata mondiale Del malato Per l'occasione Dicevo Piero Coccia Questa mattina Alle 9 Sarà in visita Ai malati Al personale Sanitario Del San Salvatore Domani mattina Invece Alla stessa ora Quindi alle 9 Visiterà I malati Del personale Di Muraglia Alle 18.30 La messa Con i volontari Malati E gli operatori Sanitari Nella parrocchia Del Sacro Cuore A Soria La fusione Oggi al baglio Del segretario Parliamo Della fusione Pesaro Monte Ciccardo C'è la delibera In votazione Il commissario Non ha questi poteri Però Dice L'opposizione Che chiede la verifica Al prefetto E al Viminale Non è mai successo In Italia Dicono Il suo È un parere Senza l'espressione Di un consiglio Comunale Fusione Pesaro Monte Ciccardo Freni Sulle procedure In commissione Il documento Passa al baglio Del nuovo segretario Comunale L'opposizione Non molla l'osso Dice Il commissario Di Monte Ciccardo Non ha Tutti questi poteri E quindi Verifica Del prefetto E del Viminale Questa è la richiesta Illuminate A Mondolfo Illuminate Le strisce pedonali Più sicurezza Sulla Pergolese Il comune Ha potenziato La segnaletica Nella frazione Di Centocroci Questo è l'attraversamento Con questa nuova segnaletica Che dovrebbe rendere Appunto L'incrocio Più sicuro Mentre sul digestore Quello che vorrebbe Realizzare Una società privata La Ferogna SRL Nel Nel paese Di Barchi Siamo Nel comune Di Terre Rovereschi Adesso Cominciano A venire fuori Un po' Di perplessità Soprattutto Dal gruppo Noi siamo Terre Roveresche Che sul digestore Ha Le idee Abbastanza Chiare Scrive Almeno Questo Gruppo E non riescono Dicono loro Non riusciamo A comprendere Come per un'operazione Così importante Per il comune E i cittadini L'amministrazione Ne sia venuta A conoscenza Dopo Di tutti E solo Il primo di febbraio Insomma Non ci credono Poi fino in fondo Che il sindaco Sebastianelli Non sapeva Nulla Come ha dichiarato Inizialmente Il giornale E poi anche La nostra televisione Sappiamo tutti Che la ditta Non può presentare Un progetto in provincia Senza presentarlo Anche in comune Lo ribadisce anche Nella lettera Inviata Alla sindaco Insomma Gli umori Da quanto si legge Anche sui social media Non sembrano Essere Dei più sereni I teppisti A Senigallia Invece Contro il caffè art Ecco che cosa Hanno combinato Praticamente Nella notte Tra sabato E domenica Un gruppo di giovani Si è fermato Sulla strada E uno di loro Alle 4 e 39 Il giornale è preciso Perché ci sono le immagini Come vedete qui Dalla scritta Le immagini riprese Dalla videocamera Di sorveglianza Alle 4 e 39 Dopo che questo gruppo Si è fermato Un gruppo di giovani Sulla strada Ha lanciato qualcosa Contro la vetrata Di questo art caffè O caffè art Dal video Dalla telecamera Non si distingue bene Che cosa sia stato lanciato Ma ieri mattina Davanti alla porta Rutta E' stato trovato Pensato un barattolo Di nutella In frantumi Non era nemmeno vuoto La cioccolata era sparsa Tra i frammenti di vetro Sui sanpietrini E il titolare Del locale L'ha presa un po' così Con filosofia E sarcasticamente Ha detto Io me la sarei mangiata Invece di sprecarla così Lanciandola contro La vetrina Del mio locale Sotto Bus navette regolare Montato il conducente A Senigallia Scatta l'operazione sicurezza In campo 10 equipaggi E qui si parla di multe Di verbali E di ritiri di patente La cronaca Da Pesaro Muore a 33 anni Investito dal treno Tragedia nelle campagne Del Boncio Il treno merci Che era in transito Diretto verso Bologna Ha travolto il giovane Nel cuore Della notte Il giovane aveva 33 anni Risiedeva in zona Tombaccia Erano le due e mezza Di notte Quando Quest'uomo Stando alla ricostruzione Che è stata fornita Si è gettato Tra i binari Mentre stava arrivando Questo treno merci Con direzione Bologna Procedendo Ad una certa velocità La polizia Ha trovato l'auto Della vittima Poco distante All'interno C'era una lettera Di scuse E dobbiamo sottolinearlo 15 giorni fa Una ragazza Di 24 anni Era stata travolta E uccisa Nella notte Da un treno In transito Alla stazione di Fano Nei giorni precedenti Nei primi giorni Di gennaio Un ventenne Si era lanciato Contro un convoglio Che stava arrivando Alla stazione di Pesaro Per fortuna La bassa velocità Del regionale Gli ha salvato la vita Ma anche lì C'era l'intenzione Di farla finita Insomma È una tragedia Silenziosa Ma che Esiste È reale Che cosa fare Non lo so Sbanda in scooter Questa invece È la fotografia Che arriva sempre Da Pesaro Siamo Siamo nella notte Tra sabato e domenica Sempre E che ha visto Impegnati i carabinieri Su più fronti Nel quartiere di Pantano C'è stato un incidente Dove un ventenne pesarese Ha avuto conseguenze Piuttosto gravi Perché con il suo motorino Ha fatto tutto da solo A un certo punto Ha perso il controllo È caduto a terra E si è fatto male Soprattutto in particolare Alla testa Adesso è ricoverato Al San Salvatore Di Pesaro Questo giovane Non aveva la patente Di guida E per questo Il ciclomotore È stato Sequestrato Ma le fotografie Che il giornale pubblica Questa mattina Si riferiscono Ad un incidente Che è venuto All'incrocio Tra i viali Battisti e Verdi Dove per un mancato rispetto Della precedenza Una Citroen C3 Con a bordo Quattro giovani Di origini senegalesi Si è scontrata Con un Audi Q5 Che da viale Verdi Si dirigeva Verso Piazzale Trieste Poi Nell'articolo Che è scritto Luigi Benelli Insomma Troverete tutti I dettagli Gli orari E quant'altro Il Miralfiore invece Il parco Miralfiore È stato rasato A zero Come al solito Ma su questo C'era da spettazzolo Anche perché Questo fanno di mestiere Gli ambientalisti E quindi Non possono Tacere Però insomma Sul Miralfiore Come dicevo Rasato a zero Gli ambientalisti Le associazioni ambientaliste Contestano L'assessore Belloni Che però Risponde Noi abbiamo fatto Tutto in regola Perché ce l'hanno Con l'assessore Belloni Perché Secondo gli ambientalisti Il sottobusco Del Miralfiore È stato annientato Solo perché La questura Ha chiesto di farlo Contro la presenza Degli spacciatori E dici niente E dici niente Rendere il parco Più sicuro Con qualche sacrificio Vuol dire Consentire a tutti Di viverlo Di più Risponde Giustamente Belloni Come dire È inutile avere Un sottobusco Vivo E magari Giovani Morti Per droga Meglio I giovani vivi È un sottobusco A zero Dico io Poi Sarò Sarò vecchio Non lo so Però mi pare Che sia giusto Un discorso del genere Cioè Se la lotta Contro gli spacciatori È impari Perché questi Continuano a nascondersi Nel sottobusco E la vegetazione Li aiuta A fare Questo lavoro Di spaccio Qual è l'unico sistema? Eliminiamo il sottobusco Altro non ce n'è Non ne vedo Poi se ce l'hanno Oltre a sbraitare Lo dicano Ubriaco al volante Auto sequestrata Posto di blocco Congiunto a Montecchio Tra polizia carabiniera E municipale Quattro patenti Ritirate Due le denunce Sono state Denunciate persone La loro taba È dai 25 Ai 45 anni Uno di loro Si è rifiutato Anche di sottoporsi All'alcol test E per questo Ha avuto L'immediato sequestro Del mezzo E il ritiro Della patente Con denunce A piede libero Alla procura Della Repubblica Di Pesaro E questa era L'ultima notizia Della nostra Rassegna stampa Del mattino Rassegna stampa Che torna ovviamente Domani alle 7 puntuali Ma che ha Poi nel corso Della giornata Anche numerose repliche Sia in televisione Sia sui social media O sui social network Compreso Facebook Dove noi andiamo In diretta Così come YouTube E dove in queste piattaforme Avrete la possibilità Sempre di ritrovarla In ogni momento Quindi on demand Quando volete Basta iscriversi Alla pagina Di Occhio alla notizia Su Facebook E Occhio alla notizia Su YouTube Però vi ricordo anche Che abbiamo Tanti altri canali Per esempio Abbiamo Telegram Che è una App di messaggistica Che è anche Molto più sicura Di Whatsapp Sulla quale siamo presenti Quindi cercate Su Telegram Il nostro canale Occhio alla notizia E lì riceverete Notizie Dell'ultima ora Così come Allerte Meteo E quant'altro E anche le notizie Di cronaca Insomma Abbiamo l'applicazione Sempre gratuita E sugli store Quindi Ci siamo E ci sia Basta cercarci Il numero Che avete appena visto Invece è quello Classico Per le vostre segnalazioni A voi tutti L'augurio di una buona giornata Ci vediamo stasera Alle 20 e 30 Mette con occhio alla notizia Arrivederci Grazie a tutti 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 Grazie a tutti